Buonanotte, miei cari, buonanotte, buonanotte, bentrovati all'ascolto della Valigia, il programma che parla di voi, a cui voi date vita e grandezza perché la Valigia siamo noi. Curiosità, cosa è che avresti rubato? No, niente di speciale, un trattore. La barba lunga, la fronte sottile, l'aspetto di un torero squalificato, era una mia fotografia. Curio Illin si beccò un anno di battaglione disciplinare. Un mese prima che fosse rimesso in libertà, io fui congedato. E non lo rividi più, e non rividi più nemmeno il detenuto matto. Tutto quel mondo è scomparso chissà dove. Grazie. 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 Grazie.